Prosegue la carneficina nella Siria di Assad. Sono almeno 100 i morti nella guerriglia urbana di ieri, secondo l'osservatorio siriano dei diritti umani, di cui 76 solo a Oms. Più della metà delle vittime sono civili uccisi dalle forze di sicurezza fedeli al regime e 8 sono bambini. Secondo le stime dell'ONU, in 10 mesi la sanguinosa repressione delle proteste ha fatto 5.400 vittime. Dopo gli ultimi giorni di resistenza dei ribelli, l'esercito siriano ha ripreso il controllo della periferia di Damasco. Ma Aytan Malè, membro del Consiglio nazionale siriano, che riunisce i principali gruppi di opposizione, ha dichiarato al quotidiano britannico Telegraph che il presidente siriano Bashar al-Assad sarà ucciso come il colonnello libico Muammar Gaddafi. Oggi il Consiglio di sicurezza dell'ONU discuterà il piano della Lega Araba per porre fine alle violenze in Siria. La bozza presentata dall'organizzazione chiede le dimissioni del presidente Bashar al-Assad, ma è stata contestata dalla Russia, che in quanto membro permanente del Consiglio ha il diritto di veto. A favore, invece, si sono pronunciati Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna e Portogallo. Washington ha attivato tutti gli sforzi diplomatici per cercare di convincere la Russia a non ostacolare l'iniziativa. Per la Casa Bianca, infatti, la caduta del regime di Assad è inevitabile, perché il presidente ha perso il controllo del paese.